Dieci anni fa, il 6 agosto 2009, veniva a mancare Riccardo Cassina, friulano di nascita, lecchese d'adozione fra i padri dell'alpinismo moderno. Parlare del nonno è sempre un'emozione, un sentimento molto forte, soprattutto senza ombra di dubbio per le attività alpinistiche che ha fatto e poi perché era un uomo speciale. Infatti noi con la Fondazione Riccardo Cassina quest'anno, tutto il 2019, l'abbiamo dedicato al suo ricordo, ricordando i 100 più 10. Abbiamo realizzato e stiamo realizzando degli eventi, delle serate, proprio per parlare di lui, per raccontare di lui e per continuare a trasmettere i suoi valori, i suoi insegnamenti e tutto questo amore per la montagna che aveva. Lo facciamo attraverso tre libri, tre ristampe, quindi presentiamo questi libri e bellissimo ci siamo trovati anche ad ascoltare i racconti. Era proprio il nostro intento, quello di condividere un nonno, il condividere Riccardo. Io e mio papà che giriamo, anche con mia sorella, mia mamma, la nostra famiglia, giriamo per parlare di lui, per raccontare di lui, ci siamo trovati ad ascoltare il pubblico, gli amici, i conoscitori, gli amanti della montagna. Ci raccontano aneddoti, quando l'hanno incontrato, quando gli hanno stretto la mano, i loro ricordi e questa è la cosa più bella. Abbiamo fatto già tanti appuntamenti, continuiamo ad averne, quest'anno è proprio tutto improntato sul suo ricordo. Siamo ai Piani Resinelli, un luogo carissimo a Riccardo Cassin. Anche qui la sua testimonianza vive con le vostre iniziative. Sì, infatti siamo presenti con due mostre, una dedicata all'Iriscianca, che quest'anno proprio cade l'anniversario, alla baita della Laura, e un'altra mostra presente al forno della Grigna. Sono le fotografie dell'archivio, è la sua eredità che ci ha lasciato e vogliamo condividerla col pubblico e con gli amici. presenteremo il libro Dove la parete strapiomba, primissimo libro scritto dal nonno, ristampato, proprio qui a Resinelli. Poi avremo altre occasioni, saremo a Ponte di Legno, saremo ad Amatrice, saremo a Lecco, vorremmo dedicare proprio una serata con la città di Lecco. Un po' di chiusura, però non finisce sicuramente a novembre, continueremo con altre attività, con altri incontri, che teniamo sempre aggiornati sul nostro sito, in modo che il pubblico che ci segue può rimanere aggiornato. Grazie. 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 Grazie.